Buonasera e benvenuti al notiziario del Lodigiano. Un clima cordiale per un incontro, quello tra il Vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti e alcuni studenti. Il tema centrale l'enciclica Laudato Si e la sua esplicazione ai ragazzi intervenuti. È quanto è accaduto questa mattina a Lodi all'Istituto Bassi. Giovani di oggi e domani, non svendete mai la vostra coscienza e tenete la sveglia. Se qualcuno pensa di avere una pienezza svendendo la propria coscienza e non guardando con coscienza a tutte le problematiche, sta dicendo un no a se stesso e al proprio futuro. Con queste parole il Vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, ha concluso il suo intervento dedicato all'enciclica Laudato Si, rivolgendosi agli studenti dell'Istituto Bassi di Lodi. Non sono qui a fare catechismo, ha detto il Vescovo, ma un racconto storico ricostruendo dapprima il cammino che ha portato allo storico abbraccio tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill lo scorso 12 febbraio perché, ha detto, ci sono degli uomini che devono fare alleanza per garantire le migliori condizioni a beneficio di tutti, mettendo al centro la persona umana. Ogni discorso su qualsiasi tema non può mancare di esprimersi e svilupparsi se non dalla centralità che deve essere data all'uomo. Stiamo assistendo, ha aggiunto il Vescovo, ad un'esplosione del nostro pianeta, la nostra casa comune e anche per questo che bisogna tenere conto delle radici dell'uomo, altrimenti non ci saranno prospettive. Diventiamo voraci e sfruttatori, cercando la sicurezza nella voracità, nelle cose e nelle persone, ma senza trovare risposta a quello che cerchiamo. Nella laudato si è indicata la libertà di costruire insieme il nostro futuro. L'uomo, che è cuore della creazione, è chiamato a custodire il creato, ha proseguito Monsignor Malvestiti, e la prima cosa che dobbiamo dire è grazie. Chi non lo dice, essendo noi un incontro tra creazione e spiritualità, diventa uno sfruttatore e pensa, sfruttando cose e persone, di mettersi al sicuro, di accappararsi il futuro divorando la creazione. Chi non ringrazia, si illude di avere tra le mani qualcosa e perde se stesso. Chi non ringrazia, si scordi la gioia. Tra i concetti centrali contenuti nell'encirchica ed evidenziati dal Vescovo, c'è quello di ecologia integrale, non settoriale, ed implica la totalità dell'esperienza umana. Se si fa discorso settoriale anche favorevole al proprio punto di vista, non darà soluzioni che possono continuare nel tempo. Vantaggi immediate, ma clamorose sconfitte globali. Mentre nell'ecologia integrale lo sguardo deve essere su tutta l'umanità, il centro, l'uomo e non la creazione ritorta interessi di pochi. La crisi ecologica ha una radice umana perché il paradigma tecnocratico è diventato così dominante che è molto difficile utilizzare le risorse senza essere dominati dalla logica tecnocratica. È paradigma che tende ad esercitare il proprio dominio su economia e politica. Se vorrete essere degli economisti efficaci, politici che potremmo ricordare per il bene dell'umanità, ha terminato il Vescovo, dovrete sempre tenere presente la radice di ogni problema. Se l'uomo non è custodito, anche la creazione viene asservita agli interessi di pochi. I guadagni di una generazione saranno pagati cari dalla generazione successiva. Se non c'è questa armonia globale, non potremmo dirci mai sicuri. Vediamo ora gli appuntamenti del Vescovo di Lodi in agenda per i prossimi giorni. Domani a Lodi, nel Palazzo Vescovile, dalle 14.30 alle 17.30, incontrerà i rappresentanti parrocchiali per la ripresa del Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze. Domenica a Casal Pusterlengo, nella Chiesa dei Cappuccini, dalle 9.45 alle 10.45, sarà disponibile per le confessioni. A Zorlesco, alle 11, presiederà la Santa Messa. Nel pomeriggio, alle 15.00 a Lodi, nella Basilica Cattedrale, accoglierà i ragazzi della Catechesi, della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, per il passaggio dalla Porta Santa della Misericordia. E dalle 15.30 alle 17.30, nel Palazzo Vescovile, accoglierà i visitatori. Si è aperta oggi, in Cattedrale a Lodi, la 24 ore per il Signore, che si chiuderà domani, alle 18.00, con la Santa Messa preseduta dal Vescovo, iniziativa di cui abbiamo parlato nel corso di questa settimana nel nostro notiziario. Ricordiamo questa sera, alle 21.00, la celebrazione della Via Crucis, preseduta dal Vicario Generale, Don Bassiano Uge. Al termine, l'esposizione del Santissimo Sacramento e l'adorazione eucaristica, con la possibilità di confessarsi, fino alle ore 23.00. E cambiamo argomento. Presentato questa mattina dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi, in comune a Lodi, il dossier Il Vecchio e il Nuovo, vite di donne a confronto. Come sono cambiati il lavoro e la tutela femminile negli ultimi 50 anni. Un volume promosso dal gruppo Donne Anmil per le politiche femminili, su come sono cambiati il lavoro e la tutela femminile negli ultimi 50 anni, dai circa 1,6 milioni di infortuni e 4.600 morti per incidenti sul lavoro nel 1963, alla situazione attuale, con un'occupazione femminile cresciuta di 4 milioni di unità, un rischio di infortunio dimezzato e le morti sul lavoro ridotte di oltre due terzi. Se nel 1965 gli infortuni delle donne sul lavoro erano 252.733 e le morti 245, nel 2014 i numeri sono scesi rispettivamente a 238.094 e a 72 casi di decesso. Il volumetto che presentiamo oggi è suddiviso in due capitoli. Il primo guarda la nomenclatura della storia, diciamo, dell'aumento dell'occupazione dagli anni 60. Invece l'altra parte è proprio la parte giuridica che riguarda un po' tutto quello che è cambiato negli ultimi 50 anni. Nell'anno 65 ci sono stati 4.600 morti negli infortuni. È stato proprio il clou da quando c'è la Repubblica in Italia che è proprio stato l'anno. Poi piano piano sono diminuiti anche perché sono cambiate le varie mansioni. Prima c'era solo l'industria e l'agricoltura invece anche la donna non era occupata come al giorno d'oggi. Sono aumentate le occupazioni, sono aumentati i servizi anche cioè dal sociale alle pubbliche amministrazioni e quindi è aumentato anche quello. Però gli infortuni di pratica sono diminuiti. Per quanto riguarda la situazione attuale in provincia di Lodi, dai 1010 infortuni femminili denunciati nel 2010 si è passati ai 925 del 2014. Mentre per quanto riguarda le malattie professionali denunciate da donne, dalle 9 del 2010 si è passati alle 19 del 2014. Gli infortuni mortali accertati nel 2010 e Lodi sono stati 6, nel 2014 4. Gli infortuni montali del femminile erano a zero. C'è stato solo nel 2013 un morto, solo una donna infortunata come infortuni mortali. Parliamo adesso di un evento in cui si incontreranno arte e musica organizzato dall'Associazione Monsignor Quartieri. Stiamo parlando delle sette ultime parole di Cristo sulla croce, concerto che sarà eseguito all'ex chiesa di San Cristoforo nell'ambito della mostra di Franco Corradini. L'appuntamento è per domenica 6 marzo alle 16.30. È un progetto legato all'incontro con Franco Corradini e al percorso musicale che noi stiamo facendo da molti anni. Questa sarà la tredicesima volta che noi presentiamo a Lodi le ultime sette parole di Cristo di Aiden. Io ascoltai questo pezzo musicale per la prima volta nel 2004 l'incoronata e ne rimasi davvero impressionato per la bellezza. È anche un pezzo musicale molto breve, nel senso che dura 45-50 minuti, quindi molto gradevole, intenso. E da quella volta, quindi dal 2004, tutti gli anni l'Associazione Monsignor Quartieri lo propone in un percorso che ha toccato varie chiese della città di Lodi e la Basilica di Sant'Angelo di Gianni. Quindi due anni fa, quando sono andato a trovare Corradini, quindi Franco Corradini che abita a Borgonavo Valtidone e che avevo conosciuto all'inizio dell'attività dell'Associazione perché lui aveva realizzato una delle cartelle per le nostre cartelle incisioni, è stato davvero una meraviglia vedere nel suo studio questo lavoro sulle ultime sette parole di Cristo. Allora l'idea è stata proprio quella di far incontrare l'arte e la musica. È come se, adesso non dico Aiden, ma l'Associazione Monsignor Quartieri che si occupa delle ultime sette parole di Cristo di Aiden, Corradini che lavora sulle stesse cose in tempi diversi, in epoche diversi, in luoghi diversi, a un certo punto si incontrassero qui a San Cristoforo. Per esempio domenica pomeriggio succederà questa cosa sicuramente emozionante. Il concetto delle ultime sette parole di Cristo verrà eseguito al cospetto delle opere di Corradini e questo qui mi sembra proprio il senso più profondo di questa iniziativa che noi proponiamo alla città. Cristo Patì per voi è il titolo della recital che i giovani dell'oratorio di Zelo Buon Persi commetteranno in scena domenica 6 marzo alle 17 e 30 al Salone del Teatro dell'Istituto delle Figlie dell'Oratorio in via Paolo Gorini a Lodi. E con questo appuntamento siamo giunti al termine di questa edizione. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.